Buongiorno ragazzi, buon voto dei bentornati incredibili su Votering Waves finalmente un pochino più con la timeline canon degli eventi sus incredibile calcolate sto dicendo questa intro praticamente a tutti i video che sto registrando oggi incredibile ma probabilmente anche quelli che registrò nei prossimi giorni perché finalmente tutti i video che ho registrato in abbondanza durante luglio e agosto sono finiti incredibile e giustamente da adesso che praticamente siamo agli inizi di settembre sto cercando di registrare i video soprattutto di Genshin, Zen & Zone Zero, Valward, Votering Waves eccetera 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 in timeline con gli eventi infatti di Zen & Zone Zero finalmente siamo alla patch nuova, ho registrato un video della patch nuova che dovrebbe uscire massimo prossima settimana stessa cosa ho avuto dei Waves ragazzi sul canale è uscito adesso il video di Shang Li praticamente però io so che siamo nella patch avanti con la tipa del pennello sus però tranquilli cercherò di tornare a un equilibrio canon che esce la patch ed esce il video di quella cosa lì incredibile però calcolate che ho dovuto per forza registrare un bel po' di video di Elder Ring perché calcolate che io su Shadow of the Air ci sono in full blind ragazzi quindi devo cercare di registrare la più video possibili e ne ho registrate una roba come 20 e sto ancora probabilmente all'inizio senza ricevere spoiler incredibile quindi sto cercando di godermi al massimo anche quell'esperienza però nel frattempo avevo fatto solo che bene a registrare tutti questi bei video di tutte le altre serie sul canale ma adesso finalmente ricominceranno ad essere registrate un po' più fresche e incredibili detto questo siamo nella patch nuova incredibile sono già usciti i leak dei personaggi della prossima patch ragazzi c'è una tipa assurda con la farfalla in faccia che combatte tipo una maga è veramente meravigliosa e c'è pure un altro 4 stelle collegata a quel personaggio che uscirà sempre nella prossima patch ma in questa patch qui incredibile voi sapete che ormai il mio cuore l'ho data a Shangri ragazzi mi avete pure detto che è stato esilarante vedere la mia reaction quando l'ho trovata mi fa solo che piacere ragazzi incredibile in questa patch intanto è uscita la tipa con il pennello che dovrebbe essere una super support incredibile io schipperò alla grande pazzesco e assurdo e poi dovrebbe uscire il tipo con il braccio meccanico ma io ho anche letto che ne dovrebbero regalare una copia gratis che è una cosa assurda quindi vedremo che succederà per il resto io non è che ho giocato tanto ragazzi sono sempre al 40 tutte e tre il nostro team ovviamente è Shangri, Shangsin e Verina che mamma mia Verina è il top healer della vita ma baffa anche fa tutto Verina ragazzi è assurdo allora ho portato tutte e tre al 40 ma lo sapete già le armi sono al 40 di tutte e tre spero un giorno di portarle oltre il 40 ragazzi e l'unica cosa che ho fatto è stato portare per la prima volta su un pezzetto cioè quello più importante di tutte e tre loro al massimo cioè il più 15 come vedete le stats aumentano notevolmente però non posso portare tutti gli altri al 15 ragazzi perché mi mancano le essenze dei nemici ragazzi non so quanto devi farmare in questo gioco incredibile però veramente tanto poi sono usciti una marea di eventi ci dovrebbe essere questo evento assurdo della luna che non so se posso fare perché l'altra volta avevamo provato a fare degli eventi ma erano al 70 quindi probabilmente sono un po' oltre per me però forse questo ci proveremo magari nel prossimo episodio tanto dura 31 giorni a voglia questo sicuramente non lo posso fare perché mi dà l'idea di endgame questa è il reward che ti danno tutti i giorni questa è la missione di lei che anche qui non posso fare perché sono basso di livello incredibile come la missione di Shangli che ho schippato non l'ho capito perché è sparita quindi non so se ce l'ho ma la potrò fare solo quando supererò un certo livello misterisus lei adesso la proveremo subito perché non l'ho mai provata e per il resto mi sembra tutto uguale è perfetto in questo video ragazzi un po' come in Zelda in Zone Zero eviterò di fare le missioni di unicevali perché vorrei fare tutte le missioni secondarie un po' di esplorazione incredibile per farmare qualche punticino se mai volessi summonare per una prossima waifu prima cosa ragazzi proviamo questo personaggio incredibile perché sono molto curioso ma da quello che so lei dovrebbe baffare tantissimo è di ghiaccio e mi hanno detto anche che lei gola partiamo un attimo con i colpi sus allora il suo design è molto molto carino adoro che ha gli occhioni giganti è molto molto kawaii voglio vedere come colpisce beh giustamente usa il pennello sus e questo? ok le versioni di V3 wave sono così eleganti veramente tanta roba vediamo un po' vai ma sono dei polli ma sono bellissimi ma sono dei polletti sus ma dai ok cambiamo un attimo ok questo è il gorilla sus ok allora di certo il danno che fa wow questo era un danno importante della bimba beh questo era un danno importante ragazzi non so come fanno a dire facciamo la ulti vai ah la ulti mi sa che è un buff per tutti quanti ok beh ma ripeto ma lo so l'avevo letto che era appunto una lei baffava tantissimo infatti vedi tutti quanti fanno il danno con gli effettini di lei ok molto figo ok facciamo questo mettiamo lei ok beh fa queste bombe assurde che sono molto spicy ok facciamo la ulti ok vediamo se continua ad attaccare che fa vedi che figata la combo col triangolo è molto figa che si te le trasporta molto figa non la summonerò mai però ammetto che è figo come combatte sicuramente credo baffi veramente tanto perché ti mette pure il baffetto tipo Raiden che i colpi degli altri fanno il danno che fa un po' lei quindi sus non male eccolo qua questo è il banner suo abbiamo 41 palline dorate quindi abbiamo 4 pool da 10 ragazzi che ovviamente mi terrò però vi volevo far vedere il banner suo questo è il banner dell'arma ok fatto questo ragazzi come vi dicevo poco fa volevo fare un po' di missioni queste side quest sus che ne abbiamo veramente tante ragazzi vorrei levarmele tutte perché non ne posso più poi ripeto l'evento magari lo facciamo nel prossimo episodio poi in realtà dovrei anche esplorare ragazzi quindi tanta roba tra l'altro io ho provato un po' questo team qui e vi posso assicurare che nonostante i nemici siano al 45 ragazzi noi siamo al 40 questo team qui mena veramente veramente tanto ragazzi Shang Li mena veramente tanto non vedo la di portarla su di livello ragazzi perché secondo me potrebbe regalarci delle forti emozioni incredibili già lo fa adesso quindi figuratevi andando avanti ah ok questa dovevo semplicemente portare una foto a questa tipa va bene ok abbiamo fatto pure questa ok dobbiamo fare una missione qua va bene usa i sensori dobbiamo arrivare laggiù ok ok questa è una missione abbiamo fatto pure un altro qualche episodio fa queste missioni sus dove dobbiamo arrivare lì senza usare poteri sus va bene possiamo camminare almeno ok dobbiamo andare laggiù adesso va bene andiamo qua andiamo qua questi sono indizi no? ok ah dobbiamo fare proprio il giro sui denti ok dobbiamo arrivare fino a qui ok dobbiamo andare qua andiamo lì ok ce l'abbiamo vinto ah ok perfetto gg ok risorse andiamo a dire a questo tizio che abbiamo fatto una missione eppure questa è fatta poi facciamo questa track ah sono tutte in città ragazzi queste missioni cioè sono tutte proprio qua dentro quello dovevamo arrivare al traguardo mi ha dato una tartaruga a viola siamo quasi a livello 27 almeno danno un sacco di esperienza a queste missioni ragazzi ok dobbiamo fare una foto ok ok si vai ragazzi sono veramente side quest sus devo dire ok ridiamo la foto al tizio questa missione è letteralmente fare qualche foto va bene mi sa ragazzi che seppure la prossima è come dire molto sus queste me le faccio da solo ragazzi io non pensavo sinceramente che queste side quest fossero così come dire mediocre cioè letteralmente fai un percorso ostacoli fai una foto consegna un pacchetto beh pensavo fossero un minimo più spicy ragazzi diamogli un'ultima speranza eppure questa ragazzi fa alimentare facciamo qualcosa di un pochino più gradevole e queste me le faccio off camera almeno questo mi ha detto che devo andare da un'altra parte c'è speranza ragazzi forse questa possiamo fare del combattimento questo tizio mi ha detto di andare da una parte vediamo un po' facciamo un po' di action ragazzi datemi del combattimento ragazzi ne ho bisogno ok una tartaruga prendiamo tutto vai oh tartaruga viola amica mia pronta a soffrire dai 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 ragazzi questo è il danno che ci piace prendiamo tutto cioè adoro che fa quest'attacco assurdo dove letteralmente lei risucchia tutti è fantastico veramente fantastico ah il pesce cioè il nemico che voleva il tizio era un fottuto pesce serio ragazzi almeno combattiamo un po' ragazzi non potevo desiderare bene meglio dai grande ok siamo diventati un pesce questo ragazzi non credo di averlo mai visto wow ragazzi guarda quanto piatta sto pesce assurdo e abbiamo vinto ah ok tutto qua addirittura viola dai ah dobbiamo eliminare il tartarugone vabbè ragazzi allora vedete non è andata proprio terribilmente ma peccato che il tartarugone l'abbiamo già eliminato negli scorsi video ragazzi però almeno come avete visto ragazzi fare questa missione sai questo ci ha fatto riammazzare il tartarugone 47 beh diciamo che sus però dovremmo essere ripeto più forti dell'altra volta ok grande mi sta facendo del danno importante alla nostra Shangri eh daie daie facciamo la ultima di venina ok facciamo questo facciamo questo ok ok così ok facciamo la ultima di nuovo ecco fatto morto dai molto bene quindi ne valsa la pena fare la missione ragazzi credo di sì siamo saliti anche qua molto bene c'è qualcos'altro di spisa queste sono l'exploration quest questa è la missione dell'evento del festival che facciamo la prossima volta a questo punto fammi un attimo vedere la mappa di gioco a parte che c'è un'altra missione qui che la vado a prendere subito devo capire un attimo la mappa di gioco perché mi sa che dobbiamo cominciare per forza a andare giù ragazzi altrimenti non se ne esce proviamo a fare questa cosa dato che ci mancano due macro aree da sbloccare andiamo a sbloccare le due torri del nexus di queste due zone così mano a mano possiamo finalmente cominciare a fare queste missioni anche in queste due aree perché appunto per portare sui personaggi mi servono in queste aree sus tanto qui c'è il gorilla che possiamo sbloccare perché da quello che ho capito i poteri più forti sono quelli dei boss da 40 di resina quindi giustamente se non li sblocco tutti quando mai li posso farmare e questo gorilla sus che dovrebbe essere in questa zona qui dalla mappa almeno si vede è un boss molto sus però più che altro ragazzi non vedo di portare su un po' i personaggi perché al 40 ripeto fanno danno vorrei ma c'è questo da più danno contro nemici che stanno al 50 ragazzi più che altro questo team mi piace molto con loro tre però per portare su Shangli devo andare proprio nell'area nuova quindi sus oh molto bene ci potremmo arrivare però ci serve un portalino sus forse da qui mi sa ok andiamo no 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 ammazza che spettacolo sto posto questa dovrebbe essere l'area nuova che hanno messo nella patch scorsa con Shang Li proprio per farmare i materiali per Shang Li incredibile poi ragazzi tranquilli ci spaveremo tutto con calma però intanto fare sta cosa ragazzi l'avevo fatta un po' quindi ho detto sai che ti dico facciamolo oggi almeno cinghialotti sus grande prendiamoci un cinghietto dai torre del nexus vai molto bene ora dobbiamo arrivare ah no era solo questa no infatti ce n'è un'altra altri due una stacqua giù vai ragazzi se riusciamo a fare queste due abbiamo fatto qualcosa di simpatico in questo episodio oltre aver fatto missioni che pensavo fossero un po' più sus però che devete fare mica tutte sono le missioni come il motociclista dell'altra volta qual è la carina alla fine ragazzi la missione del ghost rider non era male ragazzi il problema grande è che non è confermato io ad esempio ammazzo questo pennuto sus però non è detto che adesso lui mi troppa la sua passatemi il termine la sua anima ok che posso usare capito quindi sus ecco qua questo me l'ha troppata e l'uccellaccio niente vedi vabbè a me ne è viola questo ma ammazziamo un lupo oh vedi il lupo me l'ha troppato però male no per un attimo pensavo che fossi in quell'isola laggiù dico aiuto dobbiamo pure rubare la nave molto bene ci rimane a parte che c'è quest'area sus qua su che ho appena visto che è scura ma non mi dice che c'è nexus da sbloccare qui ce ne sono due però non so come ci si arriva è proprio un'altra isola proviamo a andare al porto ragazzi tante volte dal porto ci si va però non lo so ok vai ulti bene danni importante va bene ok ok dobbiamo eliminare questi cosi aspetta un po' con calma eh quanto mi piace l'attacco suo che li mette tutti quanti insieme ragazzi di manco fosse caso troppo bella ok ulti c'è troppo danno fa secondo me nelle condizioni ragazzi ripeto che eh perché non è minimamente buildata bene lei eh però sono soddisfatto diciamo la ulti ok ecco qua ancora vai avuti tanto si ricarica subito eh wow li ho shoddati dai li ho shoddati grande non me l'aspettavo vai possiamo così non lo so ragazzi è una mia idea che forse questo sembra vagamente un porto vedete ragazzi magari da qua si può andare in quell'ultimo posto magari ripeto sto dicendo una cavolata gigantesca ragazzi però in caso abbiamo fatto un po' di esplorazzo che era quello che volevo fare in inizio episodio ragazzi qua mi sono distratto con quelle side quest che pensavo fossero un po' più spicy però ci hanno fatto divertire un po' dai un po' ecco qua ecco qua ah il nostro amico uomo macchina anzi insetto macchina più che altro ecco qua magari ce ne droppa uno più forte ragazzi no non ci ha droppato niente però come dire Shang-Li ci regala forte emozione ragazzi il lato positivo è che l'ho usato un pochetto che era veramente da tanto 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 tempo che non lo usavo ora domanda da un milione di dollari di godo secondo voi la mia idea sus che il porto ci porta nell'isola sus sarà vero o no? devo fare qualche missione perché non c'è nessuno in questo porto sus ragazzi sicuramente ci deve essere una missione sus che ci porta la guardate lo cerco in diretta guardate aspetta e niente ragazzi avevo ragione bisogna fare la missione però del capitolo 7 addirittura che mi sa che io non c'ho proprio va un po' vedere missione 1 atto 5 mi sa che è atto 7 invece ragazzi andiamo toccando avanti ancora un pochetto per sbloccare questa isola sus vabbè quindi dobbiamo aspettare un po' per portare sulla nostra torata Shang-Li ai prossimi livelli vabbè ragazzi dai non è andato male ragazzi mi ha fatto un sacco di esplorazio a sto punto possiamo fare la missione che c'ho qui però scusami sono curioso allora ok ragazzi sblocchiamo questo teleport e concludiamo ragazzi ah ok non mi aspettavo di incontrare Alto di nuovo che poi noi tipo un criminale avevamo visto no ok e shall we mi pare che sto a fare tutto io caro Alto ok ecco qua ecco qua allora ragazzi io off camera mi farò probabilmente qualche altra di quelle missioncine piccoline e insieme ragazzi andremo avanti in carrivia con queste missioni mamma mia ragazzi io capisco che la tipa del drago sus è tanta roba ragazzi ma io ragazzi adoro il design di Shangri è tra le cose più belle dell'universo mamma mia prossimo episodio andremo avanti incredibile probabilmente con la missione principale e proveremo a fare l'evento sus della luna cose incredibili manco fosse Genshin Impact pazzesco e assurdo ragazzi vado a mangiare ho una fame bestiale che cosa siamo voi incredibili e ci vediamo al prossimo episodio wow grazie a tutti grazie a tutti